buongiorno una sega ragazzi buongiorno una sega oggi forse il buongiorno una sega peggiore di questo canale più grosso in assoluto mai visto in questo canale perché ieri a fiorentina ha perso 1 a 0 ai 91esimo da un ex contro la juve c'è proprio il buongiorno una sega enorme la cosa forse che mi può sicuramente far risollevare morale è il palazzo per vedere qui a vienna siamo qui a vienna oggi vi ho portato qua a vienna dice perché non si è andata a torino perché asa de voleva andare a vienna vero asa de voleva andare a vienna e siamo qua al palazzo per vedere adesso però devo commentare questa partita quindi venite con me perché vi porto in un luogo un pochino più tranquillo vai eccoci qua allora comodi allora che dire la partita di ieri come detto è da grandissimo buongiorno una sega forse il peggiore mai visto in questo canale però dobbiamo guardare avanti sesta sconfitta non ci sono mezze misure ieri tra l'altro forse il risultato è 0 a 0 poteva essere il risultato più giusto una fiorentina che è partita timidina è partita quasi intimorita poi però nel corso del primo tempo come ho detto anche ieri nel post partita nel corso del primo tempo io ci ho cominciato a sperare perché francamente la squadra stava salendo la squadra stava attaccando tra l'altro le occasioni più ghiotte nel primo tempo le abbiamo avute noi quindi io alla fine del primo tempo ho detto ma speriamo ci potrebbe essere la sorpresa poi però il discorso come andate che nel secondo tempo la juve ha cominciato a aumentare un po di ritmo noi ci siamo fatti anche un po più intimorire dalle munizioni ricevute dai centrali ci abbiamo avuto anche sta sfiga che tutte e due centrali tra l'altro la prossima settimana anzi il 20 salteranno la partita col milan è entrato nastasic per per sostituire milenkovic forse italiano poteva fare qualcosa di meglio poteva sostituirlo leggermente prima ha ammesso anche le sue colpe perché un difensore che se c'è la coppia di centrali tutte e due ammuniti uno dei due deve assolutamente uscire immediatamente poi si è avuto la sfiga è entrato nastasic e dopo cinque secondi ammunita anche lui comunque la fiorentina però ha smesso d'attaccare cioè noi ragazzi abbiamo purtroppo dei grandi grandissimi limiti in fase offensiva e ieri si sono visti perché ieri io non ti voglio neanche dire che c'è stato un peggiore in campo perché non c'è stato un peggiore in campo anche lo stesso Kai e On che molti mortificano io stesso prendo in giro però in realtà ieri non è stato il morto un campo che cammina cioè nel primo tempo si è fatto vedere anche lui chiaramente c'è chi più chi meno però c'erano come dicevo ieri dei giocatori che probabilmente erano più concentrati a fare altro perché intimoriti dall'avversario dallo stadium dall'ambiente dal tipo di partita come per esempio Bonaventura e ieri si è limitato solo a circoscrivere Locatelli basta non si è limitato non ha fatto nient'altro che questo alcuni hanno fatto semplicemente il compitino per limitare l'avversario invece la cosa che avevo chiesto io e che speravo facessero è di giocare più a viso aperto cioè Vlaovic nel secondo tempo non è stato mai mai servito è vero che poi la De Ligt praticamente l'ha preso e l'ha chiuso in una morsa però c'è anche da dire che nel primo tempo qualche occasione Vlaovic poteva sfruttarla meglio quindi veramente nel secondo tempo noi abbiamo smesso di attaccare abbiamo smesso di crederci di anzi di credere di poter essere all'altezza di vincere la partita ci siamo a un certo punto se anche visto accontentate lo 0 a 0 e questo l'ha fatto anche italiano quando sostanzialmente ha cominciato a mettere giocatori più difensivisti è vero che eri in 10 uomini è vero che c'è stata quell'ingenuità di Milenkovic dove Chiesa stava ripartendo però io ragazzi io non riesco a vedere poi non credo di essere un antisportivo perché mi sembra di dimostrare l'ampiamente in questo canale che se c'è da ammettere un rigore contro se c'è da ammettere un fallo contro un gol o semplicemente di aver giocato male lo ammetto semplicemente anzi non voglio parlare neanche di rigore che non ci hanno dato perché francamente è una decisione arbitrale basta punto purtroppo non ce l'hanno dato anch'io a vederlo a bocce ferme rivederlo rivederlo forse l'avrei dato però che ti devo dire non l'ha dato chi se ne frega ma la cosa che francamente mi ha fatto più imbestialire ieri e che non riesco ancora a vedere il fallo è quello sulla seconda ammunizione di Milenkovic perché è vero è un'ingenuità se è andato in maniera troppo irruenta su un giatore era partita a 2000 però io ragazzi non riesco a vedere il contatto è questo cioè Milenkovic mi sembra non l'abbia proprio toccato poi pronto ad essere smentito come detto sono uno che ammette gli errori che ammette cerca insomma la maniera più sportiva possibile quindi pronto ad essere smentito detto questo ragazzi nel momento in cui ci siamo chiusi per giocare sullo 0 a 0 e quindi definitivamente smettere mettere un punto sulla partita smettere di attaccare dichiaratamente a quel punto la Juve ha cominciato sempre più a salire di baricentro sempre più attaccare e alla fine si è preso al 91esimo da un da un ex che io francamente non apprezzo neanche tanto per come si è comportato però molti se ne sono dimenticati però scoccia scoccia e dura comunque veniamo a noi veniamo al pagellone indiscutibile da Vienna ragazzi cioè vi porto dei contenuti di livello allora Terracciano 6 Terracciano mi è piaciuto molto in varie occasioni soprattutto sul tiro di chiesa che si l'aveva un po' sbucciata questo autunno viennese mi dà anche un po' fastidio l'aveva un po' sbucciata però francamente era un tiro molto insidioso e Terracciano si è fatto trovare pronto così come in altre occasioni è un gran portiere ragazzi c'è da dirlo è un gran portiere ha giato praticamente tutto il primo tempo con un occhio senza vederci perché De Ligt gli era entrato a smanaccioni sull'occhio e neanche a munizione e quindi veramente un gran portiere peccato cioè mi sono un po' cacato addosso dico la verità quando quando sembrava indisponibile e Rosati si stava scaldando non senza nulla togliere a Rosati però della serie sfiga cioè voglio dire i due portieri tutti e due buoni e tutti e due infortunati una sfiga esagerata allora veniamo alla difesa il migliore secondo me è stato quarta imprescindibilmente c'è un giocatore che questo io spero che da ieri si siano tutti convinti che lui deve essere il centrale titolare dà una sicurezza in quel reparto e anche una cattiveria una gara agonistica che fa bene alla squadra e poi tra l'altro non so se avete notato ma è anche il primo e l'unico forse a lanciare l'attaccante quindi due o tre lanci lunghi dalla difesa venivano proprio dai suoi piedi quindi è un giocatore imprescindibile gli ho dato 7 anche se poi ha preso la munizione salterà anche lui la partita con il Milan così come Milenkovic Milenkovic il peggiore secondo me della difesa gli ho dato 5 per l'ingenuità ma soprattutto anche perché faceva molta fatica sia su Morata sia su Dybala anche se Dybala spesso era la marcatura veniva scalata su quarta però veramente faceva tanta fatica è lo stesso Morata è andato al tiro due o tre volte per colpa di Milenkovic e insomma per colpa di Milenkovic perché non riusciva bene a tenerlo mi ricordo benissimo il sombrero tra l'altro Morata ha fatto e che lì abbiamo rischiato tanto tanto nel secondo tempo gli do 5 mentre veniamo sugli esterni all'anastasi ce li do 5,5 ma perché semplicemente non è che ha fatto male ce li potevo dare anche 6 però è arrivato ha preso subito la munizione vuol dire che il campo probabilmente l'abitudine al campo ancora ce l'ha da oleare ancora e quindi gli diamo 5,5 ma potrebbe essere benissimo un 6 ho visto molti gli hanno dato anche 6 veniamo all'esterni Biraghi non mi è piaciuto tantissimo 5,5 ha spinto leggermente di più nel primo tempo nel secondo tempo ha avuto un pochino più paura di Chiesa tra l'altro vabbè è stato anche sfigato sul tiro di quadrado però comunque non è che sia stato impeccabile quindi partita tutto sommato appena sufficiente gli diamo 5,5 chi invece mi è piaciuto tanto è Odrio Zola 6,5 soprattutto nel primo tempo ragazzi ma quando ci decideremo allora te hai capito una cosa che gli esterni d'attacco non sono all'altezza di saltare l'uomo di fare superiorità numerica e soprattutto non sono all'altezza in questo momento di darti una garanzia per quel ruolo quindi quando ci decideremo a far giocare questo giocatore più avanzato cioè non è tanto difficile basta metterlo lui al posto di Caillon lui al posto di Sottil tutti e due i giocatori che in questo momento non ti stanno rendendo hai un giocatore come Odrio Zola che spinge tanto soprattutto nel primo tempo si è visto quasi che Caillon sembrava un interno aggiunto e Odrio Zola il vero esterno d'attacco ecco benissimo fallo giocare gli metti venuti dietro o al massimo potresti mettere anche Milenkovic terzino destro e far giocare Nastasic quarta, Igor quarta se lo vuoi inserire è vero che lo vai un po' a snaturare però Milenkovic ha ricoperto quel ruolo insomma metti qualcuno un pochino più difensivista dietro e fai fare la galoppata Odrio Zola cioè questo ragazzo ha una gamba impressionante poi salta l'uomo sistematicamente bellissimo anche l'ingresso su due avversari o smarcamento su due avversari con cross annesso in mezzo quindi francamente è un giocatore che quel ruolo lo potrebbe ricoprire benissimo poi a gennaio cercherai un sostituto un esterno degno di quel ruolo e Odrio Zola lo potrai arretrare come terzino ma a questo punto io lo proverei esterno alto d'attacco destro quindi gli do sei e mezzo il centrocampo io gli ho dato a tutti sei perché non hanno fatto male ragazzi ma anche Torreira a tratti mi sembrava molto cioè a tratti io ho detto ragazzi qui si costruisce una fiorentina che mi fa godere a tratti nel primo tempo io ho detto sto rivedendo la fiorentina del primo Montella a tratti mi faceva godere cioè Torreira non ti voglio fare paragone con Pizarro ma era tanto tempo che non vedevo un regista che prendesse andasse a recuperare i palloni in quel modo giocasse di prima cercasse sempre l'1-2 con il compagno cioè era tantissimo tempo quindi a tratti io ero contento e a nessuno dei centrocampisti mi è dispiaciuto gli do a tutti sei chi più chi meno Castrovilli per esempio forse dei tre è quello che ha fatto un pochino meno anche se poi ha fatto due o tre giocate interessanti però erano impegnati a fare altro Bonaventura era impegnato a circoscrivere Locatelli Castrovilli era impegnato a cercare il raddoppio erano impegnati a fare a limitare più la Juventus piuttosto che a cercare di trovare spunti interessanti per essere imprevedibili andiamo invece sulle riserve Duncan 5,5 è entrato, ha fatto poca roba diciamo spezza poche gambe Ambra Bat 5 forse il peggiore del centrocampo quello che mi è piaciuto veramente di meno è vero che lui non è un regista cioè io non capisco italiano come mai debba ancora forse perché non ha Pulgar però è vero ma a quel punto non togli Torreira lo fa giocare a 90 minuti perché questo giocatore è come giocare in quel ruolo giocare un uomo in meno ha perso anche il pallone che poi ha portato all'espulsione di Milenkovic non è che voglio dare la colpa a lui però non sa gestire i palloni in quel ruolo perché se lo metti al posto di Castrovilli probabilmente ti fa bene andiamo davanti Cayeon 6- gli do diciamo ma poi in realtà è più una sufficienza solo che a tratti cammina e vabbè questo è Cayeon vedremo se continuerà a giocare lui però io ripeto la soluzione potrebbe essere Odriozola perché poi guardi anche Sottil che è entrato e si è fatto ammonire con ingenuità perché Pellegrini è ripartito tra l'altro è un'azione che noi potevamo partire in contropiede lui aveva la velocità e i mezzi per poterlo fare gli ho dato 5,5 a Sottil e quindi insomma non è che in quel ruolo non brilliamo Saponara ieri forse degli esterni quello che mi è piaciuto un po' di più è vero che ha attaccato poco però è anche vero che è l'unico che cerca di trovarti la giocata per smarcare l'attaccante quindi gli ho dato 6 Blaovic gli ho dato 5,5 ho visto che molti gli hanno dato 6 io mi aspetto tanto di più poco, poco reattivo sulle poche palle ricevute nel primo tempo secondo tempo sparito quindi per me è un 5,5 finiamo con Italiano ragazzi Italiano gli ho dato 6 perché complessivamente ha preparato bene la partita complessivamente l'approccio c'era ha sbagliato dei cambi ha sbagliato i tempi anche dei cambi perché sicuramente Milenkovic doveva toglierlo prima e probabilmente saremo arrivati anche allo 0 a 0 però ragazzi che ti devo dire se c'aveva tre rote la mia nonna gli era un carretto che ti devo dire va bene così peccato perché uno 0 a 0 forse era il risultato più giusto ce lo meritavamo però è anche vero che io mi aspettavo un pochino di più va bene ragazzi commentate voi con le vostre pagelle io torno a Vienna vado al palazzo del belvedere me lo vado a vedere ho fatto anche gioia di parole lasciate un mi garba se vi è garbato il video condiviate il video se vi è garbato parecchio e iscrivetevi al canale e attivate la campanella forza viola ragazzi e J.M.